Un benvenuto a Gianni Petrucci, Presidente del Coni, ospite al Corriere dello Sport.it Presidente, siamo sotto Natale, le chiedo subito, un regalo sotto l'albero, cosa vorrebbe? Serenità nel mondo del calcio, è sempre stato l'auspicio, questo è uno sport straordinario, bello, ma devono convincersi i presidenti prima che è uno sport e poi che siano più sereni, che rispettino le regole, che comprendano che si perde, si può perdere, però è sempre l'ambiente più bello, basta rispettare le regole e lo sport del calcio sarà sempre più forte, specialmente quello italiano, da quale ho grande fiducia. Sotto Natale siamo più buoni e con un presidente ha fatto pace, parlo di Lotito, il primo messaggio che l'ha mandato? Lotito è una persona intelligente, Lotito è una persona che sta facendo grandi cose con la Lazio, l'ha salvata, Lotito sa benissimo quali sono le regole, le sta rispettando e sta facendo sognare i tifosi laziali, a lui oggi dobbiamo dire bravo, il resto sono solo parole, abbiamo passato momenti certamente difficili, però alla fine da persone intelligenti si si intende, Lotito lo è e i risultati si vedono del rapporto buono che c'è con noi, è una persona che ha portato belle novità sul mondo del calcio, nel mondo del calcio ed è logico e giusto che abbia il suo spazio. E il carbone nella calza a chi lo portiamo invece? Ai casi di doping, i casi di doping che mi auguro non ci siano nello sport italiano, purtroppo l'anti-doping deve correre nei confronti del doping, però abbiamo la coscienza a posto, la coscienza pulita, stiamo facendo il nostro dovere sapendo che non dobbiamo mai abbassare la guardia, anzi intensificarla. Lo sport e la scuola a volte viene percepito come una nota dolente in Italia, si può applicare in un futuro possibile un modello americano? Tutte le nazioni che ci precedono nel medagliere hanno lo sport obbligatorio nella scuola, più che il modello americano è il modello del buonsenso, attraverso lo sport c'è uno studio che noi presenteremo la prossima settimana nel secondo libro bianco, nel secondo aggiornamento che stiamo facendo, che il PIL aumenta dello 0,5% con più sport e quindi meno investimenti nella sanità e questo è già un bel segnale, noi stiamo facendo anche un gran lavoro di impegno ma anche economico, la scuola sta rispondendo, ovviamente le priorità del paese sono più importanti di quelle dello sport, ma siamo su una buona strada. A volte la politica può essere stato uno stop ad alcuni sviluppi per lo sport? No, io devo dire che sono grato al mondo politico perché ho cambiato sei capi di governo, sono andato d'accordo con tutti, un Presidente del Coni deve andare d'accordo con chi governa, abbiamo mantenuto la nostra autonomia, la nostra dignità, però ci sono leggi che non comprendiamo come non possano e non debbano passare, è chiaro che adesso con questa presunta crisi di governo ci sono delle leggi sul tappeto come la legge sugli stati che riguarda anche i palazzi dello sport, come la legge sul professionismo, la legge sulla tutela dei marchi, è chiaro che sono tutte le leggi che a noi servono, però non è che posso pensare che adesso le priorità siano queste, per cui ci mettiamo in fila e facciamo appello al futuro governo perché si renda conto che insieme agli altri bisogni certamente più importanti del paese ci sono anche quelli dello sport. Penso a una tirata d'orecchie e un applauso per un personaggio sportivo. No, tirata d'orecchie a nessuno, io non faccio il moralista, anzi diffido di chi fa la morale, sono i peggiori quelli che fanno la morale. Applausi, applausi a tutte le nazionali vincenti, perché solamente io non faccio applausi alle squadre di club che pure emergono, pure quelle che vincono i titoli italiani, le coppie dei campioni, solo quella nazionale si è il numero di uno, per cui alle nazionali vincenti faccio i miei applausi.